Nel primo trimestre 2020 il rapporto deficit-pill è stato pari al 10,8%, in crescita rispetto al 7,1% nello stesso trimestre del 2019. A riferirlo è l'Istat. La pressione fiscale è stata pari al 37,1%, in salita di 0,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il reddito disponibile delle famiglie è diminuito dell'1,6% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali si è ridotta del 6,4%. La propensione al risparmio delle famiglie è stimata al 12,5%, in aumento di 4,6 punti percentuali rispetto al quarto trimestre 2019. Migliora a giugno la fiducia di consumatori e imprese. Secondo le stime effettuate dall'Istat, l'indice per i consumatori sale da 94,3 a 100,6 per le imprese da 52,7 a 65,4. Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori sono in crescita, con un aumento più marcato per il clima economico e per il clima futuro. Riguardo alle imprese, l'indice di fiducia del settore manifatturiero sale da 71,5 a 79,8 e nelle costruzioni aumentano da 108,4 a 124. I finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia sono cresciuti di un altro miliardo e arrivano a 41 miliardi di euro, con 715.000 domande pervenute. Quelle fino a 30.000 euro sono 636.000 per 12,7 miliardi. Lo rende noto l'Associazione Bancaria Italiana. Le moratorie bancarie hanno raggiunto i 280 miliardi di euro. Con la firma della Convenzione da parte di CDP, ABI, Regione Campania e Sviluppo Campania, nasce un nuovo strumento per il sostegno agli investimenti produttivi in campagna, che si avvarrà del fondo rotativo per le imprese, per la prima volta impiegato a livello regionale. La misura consentirà di attivare investimenti per 400 milioni di euro ed è rivolta a imprese di ogni dimensione, che investono nei settori tra i quali aerospazio, automotive e cantieristica, agroalimentare, abbigliamento e moda, turismo. L'importo complessivo degli investimenti ammissibili sarà compreso tra 500.000 euro e 3 milioni di euro.